La cultura del sorriso contro l'indifferenza e l'esclusione sociale. Nonostante le difficoltà economiche imposte dai tagli governativi, la provincia di Macerata rinnova il proprio impegno in favore del protocollo d'intesa per la realizzazione dei servizi di comico-terapia nei reparti pediatrici degli ospedali dell'area basta numero 3. Abbiamo voluto confermare questa convenzione che avevamo fortemente voluto l'anno scorso, certo lo scenario è cambiato, tra i tanti tagli non abbiamo voluto fare questo taglio perché vogliamo confermare questa azione che è un'azione un po' a 360 gradi, coinvolge le scuole, le varie associazioni di volontariato, gli ospedali, molto bello. Gli ospedali oggi alla conferenza stampa è presente oltre il direttore generale dell'area basta 3 anche diversi primari pediatri. Attività già avviate sul territorio provinciale dal 2008 grazie al progetto Nasi Rossi in Corsia che garantisce una presenza costante degli operatori specializzati in base ad un calendario concordato con le zone territoriali di riferimento. I servizi saranno erogati dalla cooperativa sociale clandestini di Iesi e dall'associazione Il Baule dei Sogni. In realtà noi come progetto siamo presenti dal 2008, niente meno, da subito e da sempre con la provincia di Macerata, un anno è stato totalmente a carico dell'Asul Marche e quindi stiamo continuando a coltivare questo reparto, questi rapporti con il reparto, ci troviamo benissimo, c'è un clima stupendo e stiamo riscontrando un grande affiattamento sia fuori che dentro la Corsia. La clown terapia è una co-terapia, noi collaboriamo proprio a fianco dei infermieri medici e il vantaggio è quello di stemperare le situazioni, di capovolgere l'energia da negativa a positiva. Bene, grazie. Grazie a te, grazie a te. Ciao.